Musica Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, benvenuti a Casa Rossini, anche questa settimana Siamo di nuovo con una sequenza di puntate in diretta, dalle 10 a seguire per oltre un'ora e un quarto Il lunedì, il mercoledì e il venerdì Naturalmente ricordiamo anche che la nostra trasmissione va in replica poi il giorno della diretta alle 16 del pomeriggio e alle 22 E il giorno dopo alle 15.30 Poi c'è questa lunga maratona domenicale nella quale vengono mandati in onda in sequenza tutte e tre le puntate Ma restiamo all'oggi, sono le 11 e un minuto I contatti per appunto mettersi in collegamento con noi, per fare domande all'ospite, per magari inviare un messaggio, un saluto, un video, un messaggio vocale di qualunque genere Abbiamo un numero di telefono per Whatsapp 351 708 9977 e un indirizzo mail casarossini, chiocciolarossinitv.it Oggi è lunedì 25 gennaio Ringraziamo come sempre in apertura, anzi come dovremmo fare sempre in apertura, Gulliver Che ci ha fornito tutto l'arredamento del nostro bellissimo studio E andiamo avanti parlando della domanda del giorno che da qualche tempo abbiamo declinato in forma di sondaggio Il sondaggio del giorno è una curiosità, diciamo che ogni giorno ci poniamo e vi poniamo Ma voi vi svegliate con la sveglia o vi svegliate da soli? E questo è una curiosità, se volete vi dico anche no, quello ve lo dico dopo quando avremo gli esiti e i risultati di questo sondaggio Voi scriveteci e mandateci la vostra esperienza perché poi qui non si tratta di avere un'opinione ma si tratta semplicemente di raccontarci la vostra esperienza Il 25 gennaio, oggi mancano 340 giorni alla fine dell'anno, ne avremo da passare insieme Secondo personologi è il giorno del destino Oggi si celebra la conversione di San Paolo Apostolo Al quale mentre percorreva la famosa via di Damasco minacciando persecuzioni e stragi contro i discepoli del Signore Gesù in persona si manifestò lungo la strada affinché annunciasse il Vangelo della salvezza alle genti Abbiamo due dipinti di San Paolo Apostolo Uno era quello di Caravaggio, ecco, è questo E il secondo dipinto è relativo al battesimo di San Paolo Apostolo ed è un dipinto di Pietro da Cortona Abbiamo diversi eventi storici accaduti nel corso dei secoli In questo 25 gennaio, a partire, partiamo vicini questa volta dal 1817 A Roma, al Teatro Valle, c'è la prima rappresentazione della Cenerentola di Gioachino Rossini Dramma giocoso di Gioachino Rossini sul libretto di Jacopo Ferretti Il titolo originale completo è La Cenerentola, ossia la bontà del trionfo L'opera fu composta in circa tre settimane E il debutto, pur non provocando uno scandalo paragonabile a quello del barbiere Fu un insuccesso, Rossini c'era abbastanza abituato Dopo poche recite invece l'opera divenne popolarissima E fu ripresa in Italia e all'estero E' stata anche proposta nell'ambito della programmazione del ROF Del Rossini Opera Festival Nel 1881 invece da un accordo tra Thomas Edison e Alexander Graham Bell Nasce la Oriental Bell Telephone Company di New York E' una compagnia telefonica che ha tenuto licenza per installare e vendere linee telefoniche e telefoni In Grecia, in Turchia, in Sudafrica, in India, in Giappone, in Cina, in altri paesi asiatici Qui vedete un'immagine di un telefono d'epoca nel museo Prima abbiamo visto Alexander Bell e prima ancora Edison Nel 1905 in Sudafrica diviene noto il ritrovamento del diamante più grande del mondo E' stato trovato da un agricoltore Il Cullinan, detto anche Stella d'Africa Il più grande diamante grezzo ritrovato con un peso di 3106,75 carati Che sono pari a circa 621 grammi Dopo la sua acquisizione da parte di Frederick Wells Questo diamante fu trovato da un pastore E venne venduto a un boero in cambio di un cavallo 10 buoi e 500 pecore Successivamente entrò in possesso di Frederick Wells Il direttore delle miniere di questo paese del Sudafrica La pietra è così chiamata in onore di Sir Thomas Cullinan Il proprietario della miniera di diamanti Il taglio di questa pietra, effettuato nel 1908 Ha prodotto 105 diamanti di varie fogge I più importanti dei quali fanno parte dei gioielli della corona britannica Come vedete la regina Elisabetta quando indossa la corona penso piuttosto raramente Comunque indossa anche il più importante diamante Ricavato da questo ritrovamento storico e da record Passiamo al 1961 e cambiamo proprio drasticamente argomento Esce La carica dei 101, il diciassettesimo classico Disney Film di animazione basato sul romanzo La carica dei 101 di Doody Smith Che è una scrittrice e drammaturga inglese Un cartone animato ancora attualissimo Poi oltretutto trasformato anche in film reale Con i personaggi reali ma indimenticabile nella sua versione appunto Di cartone animato È datato 1961 1985 viene registrata la canzone We Are The World Realizzata a scopo di beneficenza Scritta da Michael Jackson e Lionel Richie Prodotto da Quincy Jones Incisa dagli USA for Africa Tra l'altro qui una particolarità Molti, me compreso, erano convinti che USA stesse per United States of America Mentre era United Support Artist La spiegazione della sigla Supergruppo formato da 45 celebrità della musica Per la maggior parte statunitensi I fondi raccolti oltre 100 milioni di dollari Furono interamente devoluti alla popolazione dell'Etiopia Afflitta in quel periodo da una disastrosa carestia Vendite superiori a 20 milioni di copie Vette delle classifiche in tutto il mondo Quattro Grammy Award Insomma una storia bellissima per questo brano Che tra l'altro vi anticipo già sarà la canzone Sulla quale noi faremo la dedica del giorno Per cui intanto attivatevi sapendo che la dedica del giorno Sarà fatta agganciandola a We Are The World Che vedremo in video Nella ultima parte della nostra trasmissione Chiudiamo questo lungo excursus Come ogni giorno con la frase del giorno Prima di presentare il primo ospite È vero che il destino getta lunghe ombre Ma in fondo Ma fai in modo che la tua luce possa sempre risplendere Queste frasi insieme a tante altre cose Le ricaviamo dai social Le ricaviamo da internet Le ricaviamo dal nostro librone Mentre siamo qua in diretta a parlare Anche con lui Parleremo di qualcosa di scritto Con Marco Savelli Buongiorno Marco Buongiorno Allora Marco mi raccomando il microfono Buongiorno a tutti i telespettatori Allora con Marco Savelli Nato il 7 aprile Vuoi sapere qualcosa del librone anche te Del nostro librone personologi Non andiamo a indagare Mi affido al fatto Affidiamoci così Senza indagare Allora se volete sapere qualcosa di più Cercate voi qualcosa del 7 aprile Vedremo Però una cosa te la voglio dire Il nome è di origine latina Significa virile Ma anche martello Non so perché Infatti ci sono come dire Delle opinioni controverse Ma comunque In genere questi sono i due significati Più immediati Che vengono segnalati Per questo nome Poi se è esattamente così Questo non lo so Misterioso È uno dei tanti misteri Esatto Da cui Di cui è circondata la nostra esistenza È bello indagare Sì sì Ma è bello poi lasciarli lì Per quello che sono Esatto Qualcuno si riporta tutta la vita dietro Martello Col famoso Omen Omen Ma in realtà Non è sempre così Allora Marco Savelli È persona Molto conosciuta A Pesaro Per essere stato Comunque Per tanto tempo Coinvolto In iniziative Della pubblica amministrazione È stato assessore È stato presidente Del consiglio comunale È stato bibliotecario È stato insomma Tante cose Che l'hanno esposto In qualche modo Pubblicamente Per cui sicuramente Tra i nostri telespettatori In tanti Lo riconosceranno E diranno Ciao Marco Magari ci mandano anche Un saluto No? Probabilmente Magari ci insultano Perché poi Può succedere di tutto No? Va bene Quando ci si espone Per forza di cose Per forza di cose Però oggi è qui con noi Non per raccontarci la sua storia Ma per raccontarci La sua più recente Invenzione Se vogliamo Allora La più recente Invenzione Di Marco È questo Periodico Che per adesso È periodico Per modo di dire Diciamo è un primo numero Un numero zero Lo vedete Si intitola Campus Unilibera E di intorni Già ci fa capire Qualcosa Allora Di cosa stiamo parlando Marco? Ma stiamo parlando Del tentativo Da parte Dell'Università Dell'Eta Libera Perché questo È il soggetto Che promuove Questo tipo di pubblicazione Diciamo Di consolidare Un po' L'attività Enorme Che ha svolto In tutti questi anni Anzi potremmo dire In questi decenni Visto che Come dire Per questo Consiglio D'amministrazione Andiamo sicuramente Oltre I dieci anni Di attività Cioè Consolidarla In che modo? Nel senso che L'attività Dell'Università D'Eta Libera Almeno per quelli Che la conoscono Consiste Nell'organizzare Dei corsi Dei percorsi Come dire Che Nella sua Accezione tecnica Potrebbero Definirsi Di educazione Permanente Che vanno Dalle discipline Più o meno Tradizionali Letteratura Filosofia Arte Archeologia Eccetera A discipline Magari Più nascoste Ma altrettanto Nobili Che sono più legate Alla cultura materiale Tipo L'alimentazione La putatura Degli alberi Eccetera Ecco Tutto questo Grande lavoro Di organizzazione Dei corsi E anche Di seminari Che precedono L'avvio Delle lezioni Nell'anno accademico Finora È come dire È rimasto Nell'ettere Un po' Nel senso Che non ha mai avuto Una sua Materiale Traduzione Scritta Che potesse Permettere Anche magari A coloro Che poi materialmente Questi corsi Non frequentano Di misurarsi Di confrontarsi Con una serie Di contenuti Che noi riteniamo Importanti Di cui sono Portatori I docenti Tutti Credo Di ottimo livello Che lavorano All'interno Delle università E allora È nata Questa idea Diciamo Di consolidare Questa presenza Nella città Attraverso Non più solo Gli incontri pubblici Seminari Attraverso Diciamo così Le parole Verba Volant Ma anche Con gli scripta Manent Cioè Con Diciamo Qualcosa di scritto Che Fosse però In stretta relazione Con l'attività didattica Che l'università Della età libera Faceva E allora Qui Questo Primo tentativo Noi vorremmo arrivare A una pubblicazione periodica Ma per ora Siamo a livello di sperimentazione Questo primo tentativo Che riporta anche Come dire Cinque testi Che dovevano essere Cinque lezioni Certo Ti interrompo Perché poi ci arriviamo Al contenuto Mi sembra un impegno gigantesco Perché poi Io so che L'università Dell'età libera Ha Adesso Quello di quest'anno È più piccolo Per covid Poi ne parliamo Però ha Diciamo Un vademecum Di corsi Notevole Per cui Le lezioni E i corsi Sono veramente tante Quest'idea Appunto Vincente Secondo me Molto giusta Di provare A evitare Che tutto quello Che viene detto Resti dentro l'aula Nella mente Se va bene Negli appunti Dei partecipanti Ai corsi Perché se va bene Ecco Questa voglia Di testimoniare Di lasciare Traccia Di tutto quello Che viene fatto È sicuramente Lodevole Da stupirsi Che sia venuta Solo adesso Perché quasi Quasi Uno dice No Probabilmente Forse l'impegno Teneva distanti Però È anche vero Che è un'impresa Titanica O no Ma L'impresa È chiaramente Come dire Impegnativa Il problema qual è È che Le intenzioni iniziali Cioè Accompagnare La nostra attività Con un qualcosa Di scritto Che poi Ne desse il senso La misura In realtà È diventata Neanche Neanche A farlo apposta Qualcosa di diverso Cioè Sostanzialmente La pandemia Ha praticamente Impedito La prosecuzione Dei corsi E quindi Cosa è successo È successo Che questa pubblicazione È diventato È diventata Diciamo L'unico strumento E lo strumento Più importante Reale Con cui I nostri Iscritti I nostri soci Che sono quasi 3000 Possono misurarsi Con i contenuti E Diciamo così E I percorsi didattici Delle singole lezioni E quindi Di conseguenza Cosa c'è stato C'è stata anche In parte Come dire Una riconversione Dell'impegno All'interno Dall'università Dalla organizzazione Dei corsi Alla organizzazione Della rivista Quindi Su questo Va dato atto Che il sostegno C'è stato Da parte di tutti In particolar modo Molto convinto È stato Il presidente Sebastiani Che ha fatto in modo Insomma Che questa Iniziativa Che nasceva Da una mia Proposta Di un anno fa Alla fine Non solo diventasse realtà Ma fosse Alla fine Un prodotto Diciamo così Partecipato Da parte di tutti coloro Che hanno Un ruolo Diciamo così Fattivo Importante E costruttivo All'interno Della stessa università Ma qui chiaramente Vanno anche Ringraziati I docenti Che hanno Diciamo Elaborato Le lezioni E i testi E anche quelli Che poi Hanno fatto altro Come poi Se poi magari Ci arriveremo Come poi vedremo Non diamo niente Per scontato A questo punto E facciamo un piccolo passo indietro Per ricordare Ai nostri telespettatori Esattamente Che cos'è L'Università dell'Età Libera L'Università dell'Età Libera È un'associazione È una struttura Che Da tanti anni Qualche decenni Addirittura Mi dicevi Dal 1990 Fini 89-90 Esatto Propone corsi Di varie tipologie Che vengono realizzati Sullo sviluppo Di un vero e proprio Anno accademico Si parte con le iscrizioni Durante il periodo estivo C'è tanta coda Le iscrizioni Io mi sono trovato Con qualcuno Che pur di fare un corso Soprattutto per alcuni corsi Esatto Volevo iscrivermi a inglese Rivolto a un pubblico Di varie età Perché non a caso Si chiama Dell'Età Libera Una volta All'inizio Quando erano nate Queste strutture Si chiamavano Della terza età All'inizio Era un'università Per anziani Adesso in realtà Non è più così Diventa un'università Dell'età Libera E hanno un pubblico Molto vasto Che impegna ore Del suo tempo libero E di conseguenza La socializzazione È fondamentale La presenza è fondamentale Poi si può rimediare In tutti i modi Però è quello Questi corsi Hanno avuto Negli anni Anche alcune repliche Alcuni momenti Diciamo storici Nei quali si riprendeva L'edizione Gli sviluppi Insomma un po' ne so Perché poi ne ho fatto Un paio anch'io Fino al febbraio Dell'anno scorso Nel quale appunto È arrivata Questa doccia fredda Che lì per lì Sembrava Come per tutto il mondo Una semplice interruzione E poi Una pausa Diciamo Poteva essere Io ricordo la telefonata Della segreteria Che mi diceva Guarda che La lezione di domani In realtà Slitterà Ne parliamo La prossima settimana E poi Quella prossima settimana È diventata la catastrofe Che tutti conosciamo Per cui È vero Che in piccola parte Si è tentato Di risolvere Anche in questo caso Col discorso online Però immagino Che si sia tutti No ma proprio Per quello Per quello Che dicevi tu Paolo Cioè il senso Diciamo Fortemente Socializzante Delle cose Che noi abbiamo Sempre fatto Fanno fatica Naturalizzarlo In questo periodico Questa è la mia curiosità Allora Ovviamente sempre Naturalmente Naturalmente No Come dire Noi nel In questo primo tentativo Abbiamo Messo a fuoco Alcune lezioni E anche alcuni corsi Facendo in modo Che il docente Attraverso un testo Possibilmente Ricondotto Alle 8 10 cartelle Potesse poi Esprimere Il percorso Che avrebbe Poi gestito Direttamente Con Gli allievi Naturalmente Quando abbiamo fatto Questa prima pubblicazione Pensavamo anche Come dire Di Accompagnare Quel testo scritto Con la lezione frontale Perché Ci sono appunto Cinque lezioni Che dovevano essere Poi monografiche Che dovevano essere fatte Dai singoli Autori L'idea era anche quella Diciamo Mettendo a disposizione Dell'allievo Preventivamente Un testo Che già spiegava A grandi linee Quella che era Quella che sarebbe stato Lo sviluppo Della lezione Questo avrebbe Permesso anche Un ulteriore sviluppo Diciamo Al metodo didattico Nel senso Che avrebbe reso La lezione Meno passiva Meno passivizzante Cioè L'allievo L'allievo L'allieva Che si fosse presentato Ad ascoltare Ad ascoltare Il docente Aveva anche Qualche strumento in più Per poter porre Domande appropriate Al docente stesso Alla fine della lezione Quasi degli appunti preparatori Quasi degli appunti preparatori Che potevano permettere Diciamo Un'interlocuzione Quindi Come dire Una importante Funzione Diciamo così Di crescita culturale Anche reciproca Perché poi E anche attraverso le domande Che poi lo stesso docente In una certa misura Cresce E questo purtroppo A tutt'oggi Non è stato possibile Per cui per il momento Come dire Abbiamo un testo Abbiamo dei testi scritti Che vanno presi Come dei testi scritti Così sarà anche Per il prossimo Tentativo che faremo Che dovrebbe uscire Attorno ad aprile Dove avremo Delle cose Diciamo così Anche importanti Per esempio Ecco tu prima facevi Riferimento Ai fatti del giorno La conversione di San Paolo Ci sarà un testo Molto impegnativo Del mio amico Di padre Salvatore Frigerio Del monastero di Fonte Avellana Che un po' Come dire Cercherà di indagare Il percorso Diciamo Teologico E anche filosofico Di Paolo di Tarso Come ci saranno Altre cose Estremamente interessanti Che riguarderanno L'archeologia Che riguarderà Per esempio Come dire La Divagazione Sul tema Che farà Un Paolo Teobaldi Attraverso Un testo poetico Di Pasqualon Quindi Andiamo a riprendere Una conferenza Fatta tre anni fa Molto molto interessante Da parte di uno Dei massimi Critici letterali A livello nazionale Fatta per noi All'auditorium Di Confindustria Da parte di Massimo Raffaelli Sulla poetica Delle cenere di Gramsci Di Pierpaolo Pasolini Insomma Quindi ecco Nella prossima pubblicazione Avremo Ma cercando di mantenere Il tono E il livello Della prima Autori altrettanto Interessanti Che spero Incuriosiscono E interessino I nostri lettori Naturalmente Una parte Di cui saggi Dovrebbero poi A loro volta Essere ripresi Come lezioni Ma questo Come dire Torniamo Torniamo ad essere Nelle mani Del fatto Nelle mani del fatto Del virus E tutto il resto Però per adesso Qualcosa di concreto Di molto concreto C'è questo numero Si può definire A questo punto Da collezione E' uscito Ottobre 30 ottobre Si può definire Sicuramente Il numero Da collezione Perché poi Adesso Ne seguirà Un altro Per cui Come uno Si può procurare La copia Questa E come si possono Procurare le altre No E' molto semplice Perché la distribuzione Naturalmente È gratuita Naturalmente Essendo Un'associazione Come dicevi tu Prima Di promozione sociale Mettiamola così No Non è che Agiamo a scopo Di lucro E quindi L'abbiamo distribuita Sia in tutte Le librerie Centrali Della città Quindi Che tutti conoscono Che sono Campus Che sono La libreria Cop Che sono Catalogo Adesso siamo fregati Perché li dobbiamo dire tutti Io la chiamo ancora Campus Ma la libreria Mondador Che sono il catalogo Soprattutto E in tutte le biblioteche Naturalmente Purtroppo Facciamo i conti Col fatto che A intermittenza Le librerie No Ma le biblioteche Sono chiuse Per cui Quella distribuzione Che doveva svilupparsi In un certo modo Attraverso gli utenti Della biblioteca Invece Purtroppo Ha subito Delle battute D'arresto D'altronde Vedremo Adesso Come dire Il prossimo Tentativo Mi piace La prossima Sperimentazione Ecco Mi piace usare Questo termine Sarà ad aprile Quindi ancora avremo Speriamo Un po' di tempo Per consolidare La presenza Di questa prima Sperimentazione Che risale Ad ottobre Una caratteristica Importante Ci tenevo a dirlo Perché C'è anche Uno sforzo Grafico Di un certo Impegno Che per qualcuno Ricorderà anche Le vecchie grafiche Di anni 70 A cui Siamo un po' Affezionati D'altronde Questa Non è una città Digiuno di grafica Ha avuto Grandi interpreti A partire da Massimo A partire da Massimo Dolcini A partire da Massimo Dolcini Io credo Ecco Che la grafica Con cui Noi abbiamo Lavorato E per la quale Diciamo Dobbiamo essere grati A Luigi Raffaelli Che L'impaginatore Diciamo Di tutta Di tutti i testi Di questa Di questa Di questa pubblicazione Deba essere una cosa Che vada Sottolineata Perché Comunque sia Diciamo così Ho sempre pensato Almeno io Personalmente Che Certi contenuti Contenuti Di un certo tono Debbero essere accompagnati Anche Da certi contenitori Perché altrimenti Altrimenti Come dire Si svilisce il contenuto Si svilisce il contenitore Ne parli con uno Che è un teorico Del contenitore Io dico che la forma È il contenuto Ecco Poi ci sono Le grandi scuole filosofiche Che in alcuni casi Dicono che la forma È sostanza Poi Uno ci può Insomma Siamo da quelle parti lì E quindi Io credo che Questo aspetto qua Vada sottolineato E quindi La prossima pubblicazione Di aprile Più o meno Ricalcherà Anche se Siamo sicuramente Come dire A passo ridotto Rispetto Alle ambizioni Però Ecco È anche un tentativo Per Mi perdonerai L'immodestia Per Anche un po' Sprovincializzare Un po' Il dibattito Di questa città Perché I temi che affrontiamo È vero Sono anche a volte Connessi Con quello che In questa città Accade Ma a volte Attraversano anche Le discussioni Che Da cui è percorso La stessa cultura nazionale Quindi La regia ha mandato Più Un paio di volte La parte dell'indice Però difficilmente Dal televisore Si riesce a leggere Per cui magari Se vogliamo Citare Al volo Chi c'è Ma al primo numero Provo anche Di ricordarmi Provo anche a ricordarmi Diciamo L'ordine La successione Mi sembra che Apra Ferrari Luigi Ferrari Che è un noto musicologo Che In questa città È stato anche Ha anche operato In questa città Come direttore artistico Del Rossini Opera Festival Negli anni 90 Poi ha avuto Anche un suo percorso Professionale Di altissimo profilo Come direttore Del teatro comunale Di Bologna E tante altre cose Con una riflessione Appunto Sulla scapigliatura Sul Diciamo Su quel mondo Culturale milanese Successivo All'unità d'Italia Poi Mi pare Che Vedo Chiara Agostinelli Chi c'è il ruolo Perché non facciamo in tempo Sì 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 Agostinelli Chi è Chiara Agostinelli Chi è Chiara Agostinelli Che riflette sui padri Della nostra letteratura Dante Boccaccio E Petrarca Poi Claudia Rondolini Claudia Rondolini Sul mito d'Orfeo Claudia Rondolini Sul mito d'Orfeo Massimo Bini Massimo Bini E Enrico Capodaglio Invece che fa Una riflessione Proprio molto migrata Sul ruolo Della donna All'interno del Cortigiano Di Baldassare Castiglione Poi è diviso Lezioni Racconti Racconti Sono due racconti Uno di Goffredo Pallucchini Pubblicato già Venti anni fa Ma molto bello Sulle vicende Di un Parroco Di un reverendo Nel New England Alla fine del Diciottesimo secolo E poi c'è la mia amica Francesca E la tua amica Francesca Giommi Con un simpatico raccontino Ambientato dentro Oliveriana Di cui non do Anticipazioni Perché vale la pena Inedito tra l'altro Inedito E quindi vale la pena Di leggerlo E poi negli incontri C'è questa cosa Molto interessante Che io Francamente Come dire Credo che vada Sottolineata Un'intervista Non scontata Molto Molto Seria Molto argomentata Molto Molto riflessiva Con il nuovo Rettore dell'Università Degli Studi D'Urbino Il professor Giorgio Calcagnini Che illustra Diciamo Tutta una serie Di considerazioni sue Di linee Di intervento A cui pensa Che pensa Di sviluppare Nei prossimi mesi Nei prossimi anni Attorno a questo mandato Che lui ha ricevuto Pressoché all'unanimità All'inizio d'ottobre Il professor Calcagnini È stato ospite nostro In una delle prime puntate Della ripresa Dell'anno Mi fa molto piacere Anche un Un vecchio caro amico Anche perché Abitavano nella stessa palazzina Tanti anni fa Allora Ci tengo a sottolineare Ancora Quest'idea Dell'aspetto Grafico E della cura Perché è molto importante Anche mi piace Sottolineare Quando lo procurerete Quando lo troverete O se ce l'avete in mano Mi darete ragione Questa scelta Di usare il blu Nel Al contempo Diventa Secondo me Autorevole E sbarazzino Allo stesso tempo È quasi Un prendersi Bonariamente Non troppo sul serio Invece Sottolineando Una serietà In una scelta Non banale Come quella Che potrebbe essere Quella del colore del testo Se mi permetti Un'ultima battuta Cioè La filosofia di fondo Che sta anche Nel piccolo editoriale Che abbiamo fatto Che ho scritto io In questo nuo E che ribadiremo Nel prossimo È che la cifra Di questa pubblicazione Vuole essere anche Come dire L'abbattimento La demolizione Dei muri Dei muri Che dividono Non solo le persone Ma anche le discipline No? E quindi cercare Attraverso Diciamo Quella che In alcuni ambiti Si chiama Mixite Cioè Si chiama Cioè sostanzialmente Come dire Condivisione Mescolanza Di diverse Prospettive Letture Culture Eccetera Eccetera Anche Diciamo Una verità Multipla Che sia in grado A un certo punto Di rivolgersi A tutti Anche il prossimo numero Avrà l'inchiostro colorato Non sarà il blu La copertina Non sarà gialla No? Sarà di un altro colore Non anticipo nulla Anche perché Lo vogliamo vedere Anche perché Non abbiamo ancora Materialmente deciso Anche se un'idea ce l'ho Ma non vorrei Come dire Prevaricare la discussione Il dibattito E quindi Come dire L'intenzione nostra È appunto questa C'è un dialogo Tra discipline diverse E noi lo vogliamo Portare avanti Magari in questo modo Cercando di aiutare Il dialogo Tra persone diverse Che hanno orientamenti diversi Professioni anche Di fede diverse Origini diverse Che poi alla fine Possono concorrere A questa che Bene o male È il destino Dell'umanità Tutte intere Certo Abbiamo Non ce l'abbiamo Ma me lo prendo io Un minuto Tu sei del consiglio D'amministrazione Dell'università Dell'età libera Che cosa Cosa si fa adesso Adesso noi abbiamo Noi oggi Riapriremo la segreteria Quindi non vorrei Che questo fosse Un annuncio Che si traduce In 20.000 telefonate Che tempestano Le povere ragazze No Non credo No credo di no Aspettiamo Valutiamo Perché in effetti Come dire Il nostro intendimento Era appunto quello Di riprendere Quest'attività Tra novembre e dicembre Questo non è stato possibile Attendiamo gli eventi Perché qui Come dire La situazione Al di là Di quello Che si può intravedere O prevedere È ancora molto complessa E molto difficile E non mi pare Che ci stiano dando Una grande mano Coloro che Materialmente operano Su questa pandemia Siano essi Come dire Figure istituzionali Siano anche esperti Che Ognuno dei quali La racconta Per come la sa Poi alla fine E allora Teniamoci stretto Campus E Leggiamocelo tutto Il tempo ce l'abbiamo In attesa Del nuovo numero Che arriverà Sperando che Quando avete finito Di leggerlo Come dire Si possano riprendere Regolarmente le lezioni Bene Allora noi ringraziamo Marco Savelli Io ringrazio voi Ringrazio ti Aspetta tour Una bella opportunità Di conoscere Di scoprire Qualcosa di così interessante Grazie ancora Con il nuovo numero Naturalmente Sei già invitato E così lo andremo A scoprire insieme Intanto Andiamo in pubblicità In attesa Del prossimo ospite Che è già qui Ma che vi farò Scoprire Fra un attimo Giorgio Rodolfo Sant'Agati Delle guardie Zofile Empa Con cui parleremo Di questo tema Comunque importante Marco grazie Alla prossima occasione Grazie a tutti Eccoci allora Come promesso Siamo con il secondo ospite Della giornata E diamo il buongiorno A Giorgio Rodolfo Sant'Agati Guardie Zofile Empa Buongiorno Giorgio Rodolfo Oppure Buongiorno Buongiorno Va benissimo anche Giorgio Va benissimo anche Rodolfo Però come vuoi tu Gli amici come ti chiamano? Varie Al lavoro mi chiamano Giorgio Gli amici addirittura Mi chiamano Rudy Che è il diminutivo tedesco Di Rodolfo Perché ho origini tedesche Per cui rispondo A molti nomi Insomma per strada Quando sento qualche nome Spesso mi giro Allora guarda Io mi diverto Ho un libriccino a casa Con l'origine dei nomi E alcuni si trovano Alcuni no Perché alcuni più strani Da te li ho trovati tutte e due Giorgio Di origine greca Vuol dire lavoratore della terra Agricoltore Questo è il significato Mentre Rodolfo E qui guarda Ci siamo in pieno È un nome di origine tedesca Chiaramente E vuol dire Lupo glorioso Sembra È una via di mezzo Tra un nome indiano E un nome di caccia scout Sai che c'erano questi nomi Che si usano Lupo glorioso Adesso scegli Io ti chiamerò Giorgio Allora a questo punto Quasi quasi Visto che il tema È delle guardie zoofile Proviamo quasi con Rodolfo Allora meglio Rodolfo Dai meglio Rodolfo Allora Con Rodolfo appunto Siamo a parlare Dell'argomento Delle guardie zoofile EMPA Tu sei Tu hai una carica Vicepresidente No Io sono Vice dirigente Del nucleo delle guardie Perché esiste La sezione Di cui è presidente Costanza Lucchino Che è stata anche ospite Qui E poi ci sono Le guardie zoofile Sul territorio Per tutta la provincia Di Pesaro Urbino Dove sono appunto Vice dirigente Vice dirigente E il dirigente Chi è? Così lo salutiamo? Si chiama Fabrizio Marchetti Bene Lo salutiamo Salutiamo Fabrizio dirigente Allora Probabilmente qualcuno A casa si domanda Ma cosa fanno Esattamente Le guardie zoofile Rispondiamoci subito Insomma Così almeno ceriamo Grazie Grazie Sì cerchiamo Di spiegare La nostra attività Allora Noi Abbiamo seguito Tutti un corso Quindi Agiamo nella provincia Di Pesaro Urbino Abbiamo quindi Una competenza Territoriale Legata alla provincia Siamo nominati Con un decreto Prefettizio Dal prefetto Siamo volontari E ci occupiamo Di varie cose Di cose Abbiamo da un lato Un'attività Di Eccoci qua Ci sono i nostri contatti Da un lato abbiamo Un'attività Di prevenzione Ed è anche Di informazione Per quanto riguarda La tutela ambientale E la tutela E la tutela degli animali E in quella veste Quando siamo in servizio Ricopriamo Ricopriamo Il ruolo Di pubblici ufficiali Mentre Quando Siamo in servizio E dobbiamo prevenire O anche reprimere Dei reati La Siamo addirittura Polizia giudiziaria Quindi diciamo In parole In parole Diverse Siamo Abbiamo funzione Di polizia Proprio Se c'è un cane Che viene maltrattato In questo specifico Ambito Zofilo Che ci riconosce Il decreto Del prefetto Noi abbiamo Quindi Anche queste competenze Siamo volontari Quindi ognuno di noi Ha il proprio lavoro E ci occupiamo Del benessere Degli animali Principalmente Degli animali D'affezione Cani e gatti Diciamo Nella provincia Di Pesaro Urbino Questa è insomma La nostra attività La battuta provocatoria Che avevamo In qualche modo Concordato Per Eliminare subito Il fraintendimento base C'è un cane Vicino a casa mia Che abbaia Venite È affar vostro? È affar nostro Parzialmente Nel senso Se abbaia Perché è rinchiuso In uno sgabuzzino Minuscolo E non riesce Ad avere I suoi spazi Non è tenuto bene Quindi abbaia Dalla disperazione Noi comunque Facciamo Chiaramente Un intervento E verifichiamo Le condizioni Del cane Però Ipotizziamo Un altro cane Un cane Che viene tenuto In casa Che ha un giardino Che abbaia Quando arriva il postino Che è tenuto libero E disturba Il vicino Ecco Quello È un caso Diciamo Più di problematica Di vicini È un caso Che capita Molto spesso Di faide Tra vicini In cui noi Non possiamo intervenire Là intervengono Interviene poi La polizia locale Perché si tratta poi Di una questione Anche di ordine pubblico Mi rendo conto Se il cane Abbaia per tutta la notte Diventa Una questione di ordine pubblico Fammi chiarire subito La domanda era finta Era inventata Apposta per sottolineare questo Non ho nessun vicino Che ha cani molesti O rumorosi Per cui io sto benissimo E me la cavo benissimo Non ho bisogno di chiamare nessuno Però Quello che ci tenevamo A specificare È questo Cioè Il fraintendimento Di fondo Secondo il quale Qualunque cosa Che abbia a che fare Con animali Che magari Infastidiscono Per motivi Di rapporti Tra vicini Eccetera Non è automaticamente Tema Da sottoporre Alle guardie zofile Ma va valutato Se è una conseguenza Di un maltrattamento Oppure se è semplicemente Un comportamento I cani abbaiano Perché è il loro modo Di esprimersi In molti casi I gatti graffiano Perché si devono fare le unghie Voglio dire Cerchiamo ogni volta Di capire Se l'origine Di qualcosa Che ci disturba Personalmente È legata A un maltrattamento Allora in quel caso Si innesca tutto un meccanismo Anche perché Il meccanismo che si innesca Non è una cosa da poco Cioè Quando intervenite voi Possiamo sconfinare nel penale Possiamo sconfinare Quando va bene Nell'amministrativo pesante Insomma Se si attivano Le guardie zofile Con una chiamata Con una telefonata Che si attivino Per un motivo Che già in partenza Si sa essere Un motivo importante E delicato Giusto? Chiaramente Grazie Sì E diciamo che Non tutti i segnalanti E le segnalanti Possono sapere esattamente Quali sono le leggi Da rispettare Quindi è giustificato Fare una segnalazione Poi dopo magari parliamo Anche di come fare Le segnalazioni Che può essere utile A tutti Comunque sì Può succedere di tutto Può succedere che andiamo lì E in realtà Diamo giusto Un'indicazione Per migliorare Il modo in cui Viene detenuto Un cane Altri casi In cui C'è una palese Violazione Di una legge Regionale Di un regolamento Comunale Facciamo quello più Comune Il cane a catena Il cane a catena È vietato Non si può tenere più Il cane a catena Per cui C'è una sanzione Amministrativa Una sanzione amministrativa È una cosa Più leggera Di una cosa penale Nel senso che È una Quella che viene Erroneamente Diciamo Chiamata multa Però è una multa È una sanzione Pecuniaria Che Poi bisogna pagare Bisogna poi mettersi In regola Altrimenti Esistono casi Anche di maltrattamento Quello che Quello che poi Proprio Un Un reato penale E su cui Noi abbiamo Delle capacità Di intervenire In quel caso Chiaramente si innesca Tutto un meccanismo Con la procura In cui facciamo A volte Veniamo delegati A fare anche Delle indagini Su cui abbiamo Il segreto istruttorio E su cui ci sono state In passato Anche delle condanne Pesanti Quindi parliamo poi Di casi Veramente molto Gravi Sì perché ricordiamo Che la legge Negli anni Si è sviluppata molto Ed è andata Verso una protezione Sempre più importante Gli animali Io mi ricordo Quando ero piccolo Che magari si andava In campagna Per qualche motivo Non era infrequente Vedere il classico Filo d'acciaio Teso Alto Col cane Che andava avanti Indietro Legato appunto A questa famosa catena E serviva anche Per non farlo perdere Ed era considerato Un atteggiamento Normale Oppure Altri animali Tenuti in condizioni Che quella volta Erano normali Cioè la situazione Si è evoluta Verso una protezione Sempre maggiore Dell'animale E è opportuno Che chi detiene animali Conosca la legge Proprio per evitare Di prendere Degli abbagli Magari di essere convinto Di essere nella regola Invece Non è nella regola Con Costanza Che era venuta Qualche giorno fa Qualche settimana fa Costanza Lucchino Che ricordiamo E salutiamo Si parlava Della classica cosa Del cane al guinzaglio In bicicletta Per esempio Il cane al guinzaglio In bicicletta Da un'immagine Leggiadra Di felicità Io pedalo Il cane felice E invece è vietato Sì ma poi Soprattutto se ci immaginiamo D'estate magari Con 40 gradi Al cane Sull'asfalto Non fa proprio piacere Oltre al fatto Che è anche un problema Dal punto di vista stradale Proprio che Immaginiamoci Che passa un gatto Il cane tira E il padrone in bicicletta È un problema E questo Un'altra cosa Che mi è venuta in mente Mentre parlavi adesso Molto spesso Ci viene poi detto Ah ma io non lo sapevo Ecco La legge Purtroppo Chiaramente Non L'ignoranza non scusa Esatto Non permette l'ignoranza Del resto Se io vado in macchina E telefono E mi fermano E prendo una sanzione Ma io non lo sapevo Che è passata questa legge La sanzione Me la prendo Ugualmente Ecco Questo è comunque Lo stesso concetto Che molto spesso Ci viene detto Poi Casi Della catena Molto spesso Nell'entroterra Troviamo cani Ancora legati ad alberi Specialmente adesso In questa stagione Le più gravi Sono poi Specialmente In pieno inverno O in piena estate Sono le due stagioni Dove Abbiamo più da fare Dove ci sono casi Molto gravi Poi ci sono per tutto l'anno Però ecco Questo è quello che capita Prendere un animale E tra l'altro Adesso qui stiamo vedendo Delle foto particolari Sulle quali vogliamo spendere una parola Cioè sono foto che tu ci hai mandato Che sono anche foto un po' forti Però abbiamo scelto Di metterle in onda Perché comunque È un tema davanti al quale Non si possono tenere gli occhi chiusi Queste sono cose reali Sulle quali voi vi siete imbattuti Non sono accettabili Non sono accettabili E la cosa grave è Proprio perché Non vengono neanche percepite Come gravi Da chi le perpetra E questo è il vero Il vero dramma Il vero problema Detenere Avere un animale in casa O comunque tenerlo In campagna Eccetera presuppone Che ci si informi prima A questo punto L'ignoranza della legge Non scusa Ma anche del buonsenso E allora Prendere un animale Probabilmente prima di prendere Questo animale È opportuno Oltre che Fare quello che è intuitivo Cioè sapere cosa mangia Quando bisogna dargli Tutte le cose Le più banali Che vengono in mente Noi vado a prendere Il pesciolino rosso Nel negozio Mi danno magari la bustina E dicono Questo è quello che deve mangiare Allora tot Allora tot Però oltre quello Non basta Cioè avere un cane Un animale comunque Comunque con sé È un impegno È un impegno È un impegno È un impegno Che presuppone anche Informarsi Di quelle che sono le norme Che non sono norme Che servono per rompere l'anima Per essere chiari L'esempio di prima Quello della bicicletta Non è un esempio peregrino Proprio perché Sottolinea Che non è vietato Perché Uffa Che scatole Insomma sto divieto È vietato perché Possono succedere situazioni Nelle quali poi Si va in difficoltà Grosse Questo ha a che fare Un po' con tutta Una normativa Che va conosciuta È presupposto base È il manuale Di istruzioni Della macchina Quando la compriamo Cioè non è che noi Compriamo la macchina Poi io non sapevo E si doveva pagare il bollo Non è così Insomma non sapevo Che bisogna mettere la benzina Ecco In questo caso è importante Molto molto bene Molto meglio Di quanto potessi dire In effetti anche io Ti ringrazio Perché è una cosa Che sento forte Si capisce che hai proprio Anche una sensibilità In questo senso E a proposito di sensibilità La nostra sensibilità Di guardia zoofile È chiaramente anche quella Diciamo degli animalisti Però ci rendiamo conto Che io magari Terrei un cane Sempre in casa Qualcun altro Lo farebbe salire sul divano Lo farebbe dormire Nel proprio letto Non siamo a questi livelli Chiaramente Quando siamo in servizio Perché sappiamo Che ci sono delle sensibilità diverse Però c'è uno standard minimo Che va rispettato Nelle foto Anche impegnative Che abbiamo potuto vedere Purtroppo E per cui In parte Mi scuso anche Con gli ascoltatori E le ascoltatrici Perché erano Immagine molto forte Certo Ma abbiamo scelto Deliberatamente di vedere Che abbiamo visto Ecco Questi cani Perché in questo caso Parlavamo di cani I padroni Molto spesso Ci dicono Lo tratto come un figlio E in realtà Lo tratti poco più Che come un oggetto E per questo Negli anni proprio La legge di riferimento È una legge regionale Le associazioni animaliste Non solo E in panche Le altre si sono date Molto da fare A fare pressione Sulla giunta regionale Per introdurre Delle regole Che abbiano come scopo Quello di aumentare Il benessere degli animali Ad esempio Uno spazio minimo Che deve essere garantito Per un cane È di 8 metri quadri Deve avere sempre acqua Deve avere sempre da mangiare Deve avere un box Benareggiato Deve avere una copertura Ma anche uno spazio libero Deve poter vedere Insomma ci sono Una serie di Di questioni Minime Minime Che vanno rispettate Poi è ovvio Che se uno va E misura 7 metri 80 Anziché 8 metri C'è un margine di tolleranza Ma quando si arriva a 4 metri e mezzo Chiaramente la sanzione scatta E arriviamo quasi anche A un limite di maltrattamento Ecco l'altro Voi siete una decina Di guardie volontarie Avete una riconoscibilità Attraverso un tesserino Per cui vogliamo rassicurare Anche chi è a casa E che magari si domanda Ma io come faccio A essere sicuro Che chi viene È una guardia zofila Autorizzata C'è un tesserino E c'è un'interfaccia Con la prefettura Con la prefettura Esatto In caso di dubbi Ed è giusto avere i dubbi Perché in effetti Tanti impostori ci sono Noi abbiamo O una divisa O una pettorina Abbiamo comunque con noi Sempre un tesserino Di riconoscimento E un decreto Però noi usciamo Sulla base di un ordine di servizio Un ordine di servizio E quindi In caso di dubbi Uno può chiamare tranquillamente Lo può fare Chiamare la prefettura Vi risulta che a Pergola È in servizio Una guardia zofila Empa La questura O la prefettura Chiama immediatamente I dirigenti E noi verifichiamo Sì siamo in servizio Oggi Che è sabato Dalle 14 Alle 18 In questo territorio Quindi abbiamo Un riscontro Anche immediato È ottimo È ottimo Perché dà una serenità Diversa A chi si trova Appunto Nella necessità Di interagire Con voi E questa è una Garanzia Molto importante Un'altra cosa All'ambito Zofilo È ambientale Però Noi siamo anche Volontari Quindi non abbiamo Magari una possibilità Immediata Di intervenire E quindi in casi Soprattutto gravi Quando le guardie Zofile Non ci siamo solo noi Dell'Empa Ci sono anche altre Associazioni Nella provincia Comunque anche Le forze di polizia Anche i carabinieri Attraverso la forestale O anche La polizia locale Hanno le capacità E hanno anche Il dovere Di dover intervenire In casi gravi Quindi Non è semplicemente Non sono solo Le guardie zofile Che possono intervenire Diciamo Voi potete fare solo quello Gli altri possono fare Molto di più Ma nel di più Che possono fare Tutte le forze di polizia Ci sta anche quello Proprio così Proprio così Allora Siamo quasi in chiusura E ci riteniamo Questi minuti conclusivi Per dire Ai nostri telespettatori A casa Cosa possono Barra Devono fare Per aiutare Voi E l'associazione E l'Empa Allora io Aggiungo anche Una piccola cosa Se mi permetti Come fare una segnalazione Che è molto importante Abbiamo i contatti Dopo magari Li rigiriamo anche su Facebook Una segnalazione È sempre meglio Farla per iscritta A questi contatti Che trovate qui È sempre bene Avere un indirizzo Bello e preciso Con una via È un numero civico Perché molto spesso Ci arrivano anche segnalazioni Con un messaggio vocale Hai presente quell'albero Poi 300 metri dietro A sinistra C'è un fiume Là Ecco È molto difficile Per noi poi Trovare La caccia al tesoro Esatto La caccia al tesoro Bravissimo E quindi Le segnalazioni Per iscritto Il più precise possibile E se possibile Anche il segnalante O la segnalante Dare un numero di telefono Qualora non avessimo Capito qualcosa In modo da Sentirci Insomma Per chiarimenti E per quanto riguarda Invece un aiuto Sarebbe molto Molto bello Perché noi Quando andiamo Ho detto a Pergola Ad Apecchio A Cantiano Insomma Paghiamo anche La nostra benzina Con i nostri soldi Essendo volontari Quindi attraverso Un tesseramento Ad EMPA Questo ci darebbe Chiaramente Anche una mano Un po' più di respiro Un po' più di respiro Ecco Perché lo ripetiamo I soldi Non li usiamo Per noi personalmente Ma per la nostra Attività di prevenzione Di informazione E anche di repressione Già spendete il vostro tempo Almeno riuscire a evitare Di spendere anche Proprio i vostri soldi Nella benzina Insomma Proprio così Siamo a questo punto E per il tesseramento Lo stesso La rintracciabilità È attraverso il sito Dell'EMPA Sì esatto Il tesseramento avviene Poi attraverso Costanza Lucchino Attraverso la nostra Presidente Della nostra Della nostra sezione Che gestisce Poi anche C'è anche un fondo Che è dedicato All'attività Proprio delle guardie Zofile 30 secondi Per dirmi Se le cose Stanno migliorando O peggiorando Rispetto a tanti Tanti anni fa Sicuramente Stanno migliorando Però Siamo ben lontani Io dico molto sinceramente A Pesaro A Fano La situazione È un po' migliore Rispetto all'entroterra Alle zone Alle zone interne Dove Diciamo Una cultura Su come si tiene Il cane Non è Ancora ai livelli Della Città Questo me lo sento Di dire Però Lentamente Miglioriamo E speriamo Anche grazie Alla tua trasmissione Di aver contribuito Insomma Ci provo Ci proviamo E poi mi viene Una battuta Dico probabilmente In tempo di pandemia Visto che era Nei momenti più ristretti L'unica occasione Era quella di portare Il cane fuori Se li sono tenuti Tutti Molto cari I animali domestici Mai come in quel periodo Erano curati Ed erano proprio Assecondati In ogni esigenza Ho visto gente uscire Col gatto Al guinzaglio Per cui voglio dire Insomma Il tentativo c'è E bene Era solo una battuta Noi ringraziamo A questo punto Giorgio Rodolfo Santagati Così lo diciamo Per esteso Che ci ha raccontato Di questa attività Mi è piaciuto Che hai sottolineato Appunto Che non siete solo voi EMPA Ma ci sono anche Altre associazioni Che magari poi Potremo anche invitare In altre occasioni Perché il tema È talmente delicato Che i volontari E gli operatori Non bastano mai E questo sicuramente Abbiamo qualcol'altro Da aggiungere? No no Io ti ringrazio moltissimo Per il tempo Che hai dedicato Per la competenza Che hai mostrato Anche in questo settore E poi qualsiasi domanda Abbiamo una pagina Facebook Contattateci Perché non abbiamo Solo attività repressiva Ma anche informativa Vogliamo anche Spiegare alla cittadinanza Cosa si vuole E cosa E cosa si deve fare Insomma Non siamo solo Poliziotti cattivi Ma il benessere Degli animali È proprio il nostro obiettivo Finale Perfetto Allora Ti ringraziamo A questo punto Nel andare In pausa musicale Abbiamo una dedica E io Quando mi giro così Voi vedete Da chi la prende Da Allegra Allegra La nostra segretaria Di redazione Puntualissima Dedica Auguri Oggi vogliamo augurare Buon compleanno Alla Giusto Ma perché no È vero Ad Alessandra Che è la nostra segretaria Non la segretaria di redazione Ma proprio la segretaria Di Rossini TV Che oggi compie gli anni Tanti auguri Alessandra Diciamo che il cognome Orlandini Alessandra Orlandini È la nostra segretaria Ti auguriamo il meglio Da questo 2021 E a venire E andare avanti 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 Tra l'altro Te l'auguriamo Con una canzone bellissima Che è We Are The World Inoltre salutiamo Le persone che ci seguono Dai social Roberto Barbara Sergio Kevin E altri Che ci hanno mandato I saluti Per adesso Il risultato del sondaggio Dico per adesso Perché poi il sondaggio Lo scoperto Va anche avanti Perché oltre che Lanciato televisivamente Viene anche Messo sulla storia Instagram Se non sbaglio Sto imparando cose Che non Mi sarei mai immaginato E va avanti Durante la giornata Per adesso Comunque il sondaggio Siccome ci si sveglia Al mattino Con la sveglia O autonomamente Vede Quelli che si svegliano Con la sveglia Probabilmente per esigenze E perché È obbligatorio Al 60% Contro il 40% Che sono comunque tanti Di quelli che si svegliano Da soli Pling Volete sapere Come mi sveglio io? Allora io mi sveglio Da solo Prima della sveglia È una cosa drammatica Però la sveglia La metto Perché se poi Per caso Non dovessi svegliarmi Va a finire Che arrivo tardi E non potrei mai mancare Di essere puntuale All'appuntamento Con Casa Rossini E con i miei telespettatori Bene Allora ancora grazie Adesso ci vediamo La canzone We are the world Di cui abbiamo parlato prima E poi torniamo Dopo la pubblicità Con Antonino Di Gregorio Il nostro consulente editoriale Parole da lancio Per raccontarci qualcosa Sui libri Restate Restate sempre con noi Io mi commuovevo sempre Quando la sentivo Anto questa We are the world È sempre una cosa Molto molto Piacevole Speciale Buongiorno Buongiorno Io ero un bambino Quindi Ero un bambino No dai Ero già 13-14 anni 45 14 anni Dai 14 anni Ero alle superiori Un bel ragazzetto Nato l'11 aprile A Riete Tu lo sapevi Da dove viene il tuo nome Tra l'altro Antonino? Ce ne sono un sacco Di santi Antonino Però non lo so Da dove arrivi Allora in realtà Antonino è diminutivo Di Antonio E Antonio vuol dire Colui che fa fronte Ai suoi avversari Quella Però piccolo È un piccolo È un davidino Esatto È un piccolo Allora siamo con Antonino Di Gregorio Consulente Librario Editoriale Non so ancora Il nome esatto Non ci siamo inventati Ufficialmente Consulente Editoriale Nel senso Perché collaboro Con diverse situazioni Quindi con diverse librerie Organizzo presentazioni In questo momento Sto organizzando Una serie di presentazioni Per Pesaro Città che legge Che è il cappello Sotto il quale Tutti quanti noi Che diffondiamo La lettura E il libro a Pesaro Che è firmataria Del patto Esattamente Quindi Consulente Editoriale E soprattutto Appassionato lettore È certo Che è la cosa Che mi piace di più dire Cosa stai leggendo adesso? In questo momento Ho finito In questi giorni Questo libro Che l'ho tenuto qui Proprio perché sarebbe stato Il primo del quale Sarebbe stato il primo Del quale vi avrei parlato È uscito l'anno scorso Si intitola Nomadland E Jessica Bruder O Bruder Non lo so Come si pronuncia Però Jessica Bruder Della Clichy Clichy edizioni di Firenze A parte che mi piace Sempre parlare di Editori Che non sono I grandi gruppi Eccetera Eccetera Ma che sono dei Gruppi Che lavorano bene Anche la Come è fatto il libro Io preferisco la radio Non si dovrebbe dire Vabbè dicevo La cura del libro Che è molto particolare Quindi I piccoli editori Che ci mettono sempre Tanta passione Quasi come quella Che ci metto io Quando li leggo E quando ne parlo O forse anche di più È un libro di inchiesta Cioè Nomadland È questa nuova generazione Di lavoratori Di persone Che vivono Una nuova situazione Di nomadismo Negli Stati Uniti E attraversano Il paese Da nord a sud Da est ad ovest Con dei furgoni Attrezzati Con Dei caravan Con delle roulotte Perché si trasferiscono Dove c'è lavoro Ah beh E non sono Dei poveri Sono degli ex Potremmo definirli Degli ex Ceto medio Degli ex Medio abbienti Diciamo così Che con Ciò che accadde 2008 2009 Si trovarono A rinventarsi Questa vita E addirittura Ci sono Delle società Di collocamento Che hanno creato Il collocamento Per i nomadi E quindi ci sono I lavoratori Col caravan Ed è una cosa È un mondo nuovo Esatto È un mondo nuovo E questo libro È scritto bene È un'inchiesta È una nuova conquista Dell'Uest Una nuova epoca Mi ha fatto fare Un sacco di riflessioni E soprattutto Mi ha fatto chiedere Ma in Europa Esiste questa cosa? Perché in effetti L'argomento è Stati Uniti Per la loro situazione In Europa Credo che sia già Un po' più difficile Perché non abbiamo La lingua unica E quindi questo è Sicuramente un freno Alla mobilità Interstato Parentesi Tu lo sai che se parli 3-4 minuti al libro Ah giusto Parli al massimo Ok Andiamo Ok No Scusami Mamma mia È incredibile Così solo per dire No no ma c'hai ragione È solo che Vediamo qua tutti belli Come dicevamo Sono così appassionato Di lettura Allora noi c'eravamo detti L'altra volta a dicembre Che avremmo fatto un po' Il punto della situazione Sulla classifica Sui più venduti dell'anno Esatto È strana questa classifica Di quest'anno Perché Non ci sono stati I grossissimi nomi Che io mi aspettavo Sì due o tre sì Però Strana Sia quella nazionale Che quella locale Che poi un po' Si assomigliano Primo Abbiamo avuto cambiare L'acqua ai fiori Che era uno di quelli Che avevo citato Tra le altre cose In una delle volte Che mi avevi ospitato Ed è stato il libro Più venduto in Italia Del 2020 Prende il mal di mare A casa Scusatemi È che non sono veramente Abituato a parlare Davanti a una telecamera A casa Gli vedi il mal di mare Per cercare di vedere Sto libro Fammi vedere sto titolo Tienilo fermi Valérie Perrin Cambiare l'acqua ai fiori Primo Più venduto Poi secondo Un thriller Un poliziesco Chiamiamolo come vuoi Joel Dicker È famoso L'hanno già letto in tutti Questo è il suo nuovo romanzo E si intitola L'enigma della camera 622 Joel Dicker Di questo mi aspettavo Che sarebbe arrivato Comunque sul podio Perché è uscito Direi Verso la fine dell'anno Non mi ricordo esattamente Il mese Ma verso la fine dell'anno E sapevo Che sarebbe arrivato lì La sorpresa Perché lui vende molto Di solito Ma non così tanto C'era una volta adesso Il nuovo libro Di Massimo Gramellini E mi ha sorpreso Che sia arrivato sul podio Cioè Io mi aspettavo Che ne so Il Riccardino Di Andrea Camilleri Mi aspettavo I nostri soliti giallisti Ispettoristi Come ne chiamo ogni tanto io Quelli che raccontano I vari seriali Gli ispettori E invece Questo podio Mi ha sorpreso E sono stato contento Faccio una domanda Bruno Vespa Non c'è o è fuori classifica? Bruno Vespa c'è Ma è più in basso Quest'anno Bene Credo dal settimo al decimo E meno male Temevo che l'avessi messo Fuori classifica Volevo dire una posizione esatta Ma No Non è importante Non c'è Dal settimo al decimo Non c'è Non è sul podio Ma c'è in classifica Vabbè Vorrei vedere Però insomma non c'è Quella cosa che ci dicevamo Ci diciamo sempre Tutti quanti a Natale Regalano un libro Di Bruno Vespa Ma io non conosco Nessuno che mi abbia detto Che l'ha letto Esatto Sono i misteri Della letteratura italiana Però lui scrive tutti gli anni Letterature Bruno Vespa Nella stessa frase Non stanno benissimo Non fare così Su Va bene Allora Andiamo avanti Con presentare dei libri Quest'anno ovviamente È l'anno Dei settecento Di Dante E quindi Non potevo Non portare Dei libri Che parlassero di Dante Quindi Aldo Cazzullo Arrivederle stelle Aldo Cazzullo lo conosciamo I suoi saggi sono sempre Molto interessanti Gira la quarta Così vedono chi è Se qualcuno non se lo ricorda Aldo Cazzullo è lui Direttore Adesso non mi ricordo Di quale giornale è stato Perché io lo leggo Solo da saggista Non leggo i suoi giornali E quindi Non perché ce l'abbia con lui Anzi mi piace anche molto Come scrive E qui fa la sua Il suo racconto Del suo Dante Personale Mentre invece Quindi rifacciamo vedere Arrivederle stelle Aldo Cazzullo Mentre invece Questo Non l'ho ancora iniziato Ma Quanto prima Uno dei più Io mi sto drogando Del signor Barbero Del professor Barbero Io mi sto drogando Cioè vado su Youtube E qualsiasi argomento Che lui tratta Me lo ascolto Lo metto lì Come se fosse la radio Allora perché a Rirci Stiamo parlando Di Alessandro Barbero Che è uno storico Sarebbe uno storico punto In realtà è un personaggio Un divulgatore Talmente appassionato E talmente atipico Da essere diventato Il numero uno assoluto Di qualunque cosa Lui parli E niente Tu stai lì Guardi E bevi Ed è fantastico Sì poi Come dici tu È un grandissimo divulgatore E io infatti Mi dico spesso Ma se ci avessero insegnato La storia così A scuola Ma quanto ci sarebbe Piaciuta di più Quello me lo dico Tutti i giorni E tutte le volte Che lo vedi Io vado su Youtube Canale Alessandro Barbero Quindi faccio anche pubblicità Su canale Youtube E qualsiasi argomento Per esempio Ultimamente Mi sono guardato I Visigoti Mi sono guardato Alessandro Magno Mi sono guardato Carlo Magno Mi sono guardato Federico Barbarossa Federico II Se volete innamorarvi Di Alessandro Barbero Guardatevi La puntata dove descrive Caporetto La disfatta di Caporetto Che poi lui ha fatto Anche più importante E lì proprio Esprime il massimo di sé Perché dà dritte Aneddoti Gossip Segreti Retroscena Insomma alla fine Ti fa appassionare Come se fossi lì Come se fossi stato lì Quindi Alessandro Barbero Dante Quindi più facile di così Ed è la sua versione Quindi non vi aspettate Un romanzo letterario Un romanzo di letteratura È un saggio intanto Però è un Dante storico Quindi Alessandro Barbero Quello fa E quello lo fa bene E quindi ci racconta Quello che secondo lui È stato l'uomo della storia Dante Alighieri E non quindi Il grande Il sommo poeta Ok Allora Come diceva Benigni Insomma poeta Insomma poeta Esattamente Novità Due gialli Come dicevamo prima Gli spettoristi Però c'è un giallo nuovo Allora Per la prima volta Su gialli mondadori Gianrico Carofiglio La disciplina di Penelope Penelope è il suo nuovo personaggio Ed è il personaggio per i mondadori Fino adesso Gianrico Carofiglio Non aveva mai pubblicato in mondadori Ma soprattutto per questa collana La collana Il giallo mondadori Che è la collana storica Dei gialli in Italia Se non so se lo diciamo Agli spettatori Non so se lo sapete Il romanzo thriller O giallo In Italia Si chiama giallo Proprio per questa ragione Cioè Per il giallo mondadori Prima di quell'epoca Era romanzo thriller Era poliziesco Nel mondo si chiama noir Non è che si chiama yellow Non è che in America Dice Ho scritto un yellow No Nessuno Giallo in Italia Si chiama così Solo perché mondadori Aveva declinato Con questa forma L'edizione dei libri Thriller O come dice Paolo Noir E quindi in Italia Sono diventati i gialli Per antonomasia Il giallo mondadori Questa nuova collana Questa collana Che è stata rilanciata Da qualche anno Gianrico caro figlio La disciplina di Penelope Appena uscito in libreria L'altra novità È che è un libro Ambientato a Milano Cosa novissima per lui Che invece abbia ambientato I libri tra Roma Bari E in giro Ma mai a Milano E c'è una terza Che è in prima persona Femminile Esattamente Perché è scritto in prima persona Ma è scritto da Penelope Che è la novità Insomma Per un autore Altra giallista di fama Acclarata per Sellerio Ed è Lei mi mette sempre in difficoltà Infatti non so perché L'ho portato questo libro Perché la pronuncia del suo nome Io la chiamo Alicia Ti do una dritta C'è su internet Comunque ci sono diversi siti Dovete andare lì Dici pronuncia Pronunciami questo E quello di Fabio Nella lingua Nella lingua in cui vuoi pronunciarlo Perché poi lei è Spagnola francese Certo E quindi è Scritto Gimenez Bartlett Gimenez Bartlett Ma si dovrebbe pronunciare Gimenez Bartlett Quindi Alicia Gimenez Bartlett Autobiografia di Petra Petra Delicado Che è il suo personaggio storico Questo è l'ultimo uscito E non racconto niente Perché tanto la trama È più o meno Sempre quella Sai che la storia dei gialli Quella è Appena arrivato in libreria Anche questo Invece Questo qua Che vi faccio vedere Che voglio leggere Sono curioso di leggere Forse lo inizierò Proprio oggi È La collina Andrea De Logu Insieme ad Andrea Cedrola O Cedrola Non so come si pronuncia Il suo cognome Ci vai su internet Anche quello Ah dai La prossima volta Che mi inviti Giuro che lo faccio Andrea De Logu Aveva scritto Qualche anno fa Questo libro E aveva già avuto Il suo discreto successo Si intitola La collina Ed è la sua esperienza Su San Patrignano Sapete che Lei è La figlia Di De Logu Che è stato assistente Di Come si chiama lui Che non me lo ricordo mai Il lidiatore Di San Patrignano Adesso mi hai fregato Va bene Comunque l'idiatore Di San Patrignano Molto discusso In questi giorni Per via del documentario Netflix Lei aveva raccontato La sua storia Muccioli Grazie mille Dalla regia Grazie mille Siete molto cortesi Non mi veniva Lei ha raccontato La sua storia Quando ancora Non se ne parlava Certo E sono curioso Di leggere Il suo punto di vista Anche perché ormai Lei la conosciamo Per mille cose Per stracult Per la televisione Per la radio Eccetera E' un personaggio Sempre secondo me Generalmente positivo E quindi ho voglia Di leggere il suo punto di vista E perché no farlo Quindi La collina Andrea De Logu E Fandango Edizioni Molto bene Novità Novità Da qualche giorno Ultima novità Questo qui Silvia Vallone Che torna a scrivere Un romanzo nuovo Dopo qualche anno Un'amicizia E racconta Un'amicizia Tra due ragazze In giovane età Anzi Le ragazze Il romanzo Si sviluppa Su diverso Su un periodo Più ampio E racconta Un'amicizia femminile Che è un argomento Che è stato Se vuoi rilanciato Dall'amica geniale Da un po' di tempo Da un po' di tempo a questa parte Non se ne parlava Di amicizie femminili Le donne scrivevano altro Invece da dopo L'amica geniale Si è riniziato Ad affrontare Questo argomento Chi l'ha letto Io non l'ho ancora letto Chi l'ha letto Mi ha detto Che è veramente Molto bello Ma d'altro canto Silvia Vallone Incontra spesso Il gusto Dei lettori italiani In generale Ci ricordiamo Che ha già vinto Uno strega Con acciaio Quando era molto giovane Quindi Adesso è ancora molto giovane Perché è più giovane Di me di un tot Però non è più giovanissima È ritenuta Una delle scrittrici italiane E quando uno è più giovane di te Resta sempre più giovane di te Andando avanti Ma Oggi mi vuoi mettere in difficoltà No Mi diverto Mi diverto So che con te Mi posso divertire Dai Questo invece L'ho portato Perché è un po' Mi piaceva Perché esce Fra due giorni O domani o dopo domani O domani al 26 Domani al 26 Allora esce domani Pensate come sto Che non mi ricordo Più neanche il giorno Ci sono io qui a posto Teresa Ciabatti Sembrava bellezza Uguale Stesso argomento Amicizia tra donne Quindi l'ho portato Per questa cosa Perché Anche Teresa Ciabatti Anche lei Nota Ormai Due anni fa Era arrivata Nella cinquina Del premio strega Una delle penne femminili Più lette in Italia Arriva anche lei Con libreria Per mondadori Continua a far venire Il mar di mare In libreria Per mondadori Con Sembrava bellezza Da domani in libreria Ma aspetta Che ti faccio la domanda Così ti puoi bullare un po' Ma se è da domani in libreria Come fai a averlo già? Non volevo bullarmi Non volevo bullarmi No Ti devi bullare un pochino Questa è quella che viene definita in gergo Una copia staffetta Ok Che vuol dire Infatti non è esattamente come la troverete in libreria Perché il cartonato è già con la sovracopertina Nel senso che questo è quello che troverete nella sovracopertina Quindi questo foglio qua per intenderci Questo foglio qua Il cartonato sarà probabilmente come questo Bianco Non lo so Lo vedrò domani anch'io Questa è la copia staffetta Che è quella che di solito viene inviata in anticipo a chi parla di libri Esatto Così che ne possa parlare prima dell'uscita Per creare un po' di interesse È un bel libro Questo lo letgo Dopodomani 200 euro su ebay La copia speciale Non lo faccio Ultima cosa Sì dai che abbiamo finito Siamo proprio con i secondi contatti Ultima cosa Domani e giovedì Due presentazioni della rassegna per Pesaro Città che legge Di questo avevamo già parlato Forse è la prima volta che mi ha invitato Il grande me Anna Giuriccovici dato E domani alle 19 Sulla pagina di Facebook di Pesaro Città che legge Ci sarà lei a parlare di questo libro con me E quindi vi invito a seguirci E giovedì invece Lella De Marchi con il suo libro Ipotesi per una bambina cyborg Lella De Marchi è un personaggio cittadino Scriptrice poi tessa pesarese molto nota Performer perché è a me la cosa che piace di più È quando lei fa le sue performance Quando lei mette in scena Quello che scrive mi piace molto di più Per esempio una curiosità di uno dei suoi primi romanzi di poesie Cioè scusatemi Libri di poesie che io avevo Che si intitola La Spugna È che io le poesie le leggevo tutte in modo diverso Da come le legge lei Cioè io le leggevo in un modo Andavo a vedere la sua performance E lei metteva le pause in tutti altri posti E dicevo Ah così è diverso però Infatti Finito È finito eh Tu hai una cosa da raccontarmi No ma così al volo così Il famoso Le cinque equazioni che hanno cambiato il mondo Di cui io ho parlato via social E che ti ho incuriosito E ti ho stimolato a leggere E che ti ho detto Me lo presti e tu mi hai risposto Se mi interroghi te lo racconto Esatto Allora adesso me lo racconti Purtroppo non c'è tempo Comunque è un libro straordinario Attraversa tutto un periodo storico Per la storia del mondo incredibile Nel quale sono state fatte delle scoperte meravigliose Che hanno veramente cambiato il mondo Lui ti dico che il punto d'arrivo È la formula della relatività generale di Einstein Per cui questo E invece io voglio Magari te non l'hai neanche letto questo ancora Questo qui è un libricino prezioso Ed è di Alessandro Baricco L'aveva scritto in forma di frammenti sul web E adesso esce per Feltrinelli a 4 euro Per cui è imprescindibile Per chi vuol capire qualcosa di più sulla pandemia Una cosa straordinaria Una lucidità incredibile Una invenzione fantastica Ancora una volta dopo The Game Insomma non si può fare a meno Ecco per chi è dentro il mondo Non si può fare a meno di leggerlo Ti ho rubato un po' il mestiere Il titolo è Il titolo è Il titolo è Quel che stavamo cercando Oh Veramente Oggi pomeriggio vado a prendere Non si può fare a meno Bene Allora Siamo in ritardissimo Anto siamo in ritardissimo Siamo stati oggi con Antonino Di Gregorio Consulente editoriale Parole d'arancio Che ci ha raccontato tante cose Ci ha fatto venire tante curiosità E tanta voglia di leggere i libri Prima di lui Giorgio Rodolfo Sant'Agati Vice dirigente delle guardie Zofile EMPA E ancora prima Marco Savelli Curatore di Campus La pubblicazione realizzata Per Unilibera Università dell'età libera Pesaro Una bella puntata Mi sono divertito molto Spero così per voi E vi do appuntamento Cosa c'è? C'era qualcos'altro? Aspetta Ci sono due saluti Due saluti Rita e Fabrizio Che ci hanno scritto Da Facebook Vogliamo salutarli Salutarli qua in diretta Naturalmente in questo modo Vogliamo invogliare anche tanti altri A interagire con noi E a questo punto Veramente In ritardissimo Grazie a tutti L'appuntamento È per le repliche Di questa puntata E per mercoledì Con una nuova puntata In diretta alle 10 Casa Rossini Restate sempre con Rossini TV Grazie Anto Grazie a te Buona giornata Grazie a tutti